buongiorno sono le 2.22 del 7 novembre 2023 io vado molto presto a letto sono due ore che sono sveglio e ho bisogno di una sana e nutriente alimentazione stamattina mangio due pette di pane con salsiccia di bufala proveniente dalla provincia di casetta questo è il paese di mia moglie veramente buona 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 la salsiccia di bufala anche quelle di maiale sono buone guardate guardate ma più che guardare bisogna mangiarle io l'appetito ce l'ho sempre per un semplice motivo perché consumo molta energia e poi digerisco tutto una bella magnata e oltre a ciò sto preparando a cuocere anche il mio risotto